Ste è un talento unico, è una stella nascente nel mondo della musica, la sua voce è potente e piena di sentimento. Cosa rende Ste così speciale? Canta in napoletano, la lingua di Napoli, Italia, cosa rende tutto ciò ancora più straordinario? Ste viene dalla Nigeria. Il percorso di Ste è all'insegna dell'abbraccio delle culture, unisce la sua eredità nigeriana alla sua educazione napoletana. Questo crea un suono che è al tempo stesso familiare e nuovo. La sua musica trascende i confini, collega le persone attraverso emozioni condivise. La storia di Ste è di ispirazione, ci dimostra che la musica non ha confini, ci incoraggia ad abbracciare le nostre identità, ci ricorda che le nostre differenze sono i nostri punti di forza. La voce di Ste è un dono per il mondo. La storia di Ste inizia a Lagos, in Nigeria. È nata in una famiglia amorevole. La musica è sempre stata parte della sua vita. Ricorda di aver cantato e ballato da bambina. Quando Ste era piccola, la sua famiglia si trasferì a Napoli, in Italia. Questo fu un grande cambiamento. Ha dovuto adattarsi a una nuova lingua e cultura, ma Napoli è diventata subito casa sua. La famiglia di Ste a Napoli l'ha accolta a braccia aperte. Erano calorosi e accoglienti. Hanno condiviso il loro amore per la musica. Le hanno fatto conoscere i bellissimi suoni della musica napoletana. Ste ne è rimasta affascinata. Sapeva di aver trovato qualcosa di speciale. Crescendo, la musica è diventata il suo sfogo. Trovava conforto nel canto. Poteva esprimere le sue emozioni attraverso melodie e testi. Ha iniziato a scrivere le sue canzoni. La sua musica iniziale era un riflesso delle sue esperienze. Cantava le sfide dell'adattamento a una nuova cultura. Scriveva della gioia di trovare accettazione nella sua nuova casa. La sua musica ha avuto risonanza nelle persone. Si sono connessi con la sua onestà e vulnerabilità. La voce di Ste possedeva un talento grezzo, ma era la sua capacità di entrare in contatto a un livello più profondo che la distingueva. Non si limitava a cantare parole. Stava condividendo la sua anima. La sua musica è diventata un ponte tra le culture. La musica di Ste esplora temi universali. Canta dell'amore nelle sue molteplici forme. Celebra la bellezza dell'accettazione. Sostiene la libertà di essere fedeli a se stessi. Le sue canzoni sono piene di speranza e resilienza. Riconosce le lotte della vita, ma ci ricorda sempre che c'è luce alla fine del tunnel. La sua musica ci incoraggia ad abbracciare le nostre differenze per celebrare la nostra individualità. Le canzoni di Ste sono inni per chi si sente diverso. Da voce a chi non ha voce. Ci ispira a vivere in modo autentico. Il suo messaggio di amore e accettazione risuona profondamente negli ascoltatori di tutto il mondo. Successo virale e riconoscimento. Il talento di Ste non poteva essere contenuto. La sua musica ha iniziato a diffondersi oltre la sua comunità locale. I social media sono diventati la sua piattaforma. Ha condiviso la sua musica con il mondo. Le persone sono rimaste affascinate dal suo suono unico e dai suoi testi potenti. Una delle sue canzoni è diventata virale. Milioni di persone hanno guardato il suo video. È diventata una star da un giorno all'altro. I media volevano intervistarla. È stata invitata a esibirsi sulla televisione nazionale. La musica di Ste ha toccato persone di ogni ceto sociale. La sua storia ha avuto risonanza in coloro che si sentivano emarginati. Ha dato speranza a coloro che lottavano per trovare il proprio posto. Ha usato la sua piattaforma per difendere l'uguaglianza e l'inclusione. sezione 6 un momento decisivo l'esibizione rivelatrice di Ste Peste è stata invitata ad esibirsi a un prestigioso festival musicale in Italia. Questa è stata un'enorme opportunità. Era la possibilità di condividere la sua musica con un pubblico più ampio. La folla era elettrizzata. Erano ansiosi di sentirla esibire. Ste è salita sul palco con sicurezza ed eleganza. Ha catturato l'attenzione del pubblico. La sua voce si librava nell'aria. Riempiva ogni angolo del locale. La folla era ipnotizzata. Cantavano tutti insieme ogni parola. Ballavano al ritmo della sua musica. Quella notte Ste ha consolidato il suo status di astro nascente. La sua performance è stata indimenticabile. Ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che vi hanno assistito. È stata una celebrazione del potere unificante della musica. Sezione 7 navigare l'identità. Una conversazione sull'accettazione e il pregiudizio. Il successo di Ste ha portato con sé delle sfide. È stata oggetto di critiche per la sua identità. Alcune persone hanno messo in discussione il suo diritto di cantare musica napoletana come donna di colore. Altri hanno espresso giudizi sulla sua sessualità. Ste si è rifiutata di essere messa a tacere. Ha usato la sua piattaforma per denunciare la discriminazione. Ha rilasciato un'intervista toccante. Ha parlato delle sue esperienze con il razzismo e l'omofobia. Ha affrontato la necessità di maggiore accettazione e comprensione. Le sue parole hanno avuto risonanza in milioni di persone. È diventata un modello per i giovani che lottano con la propria identità. Ha mostrato al mondo che andava bene essere diversi. Ha incoraggiato gli altri ad abbracciare il proprio vero io. Sezione 8. Nera e orgogliosa. Abbracciare le proprie origini in una nuova terra. Il percorso di Ste è una testimonianza del potere di abbracciare le proprie origini. Non si è mai tirata indietro rispetto alle sue radici nigeriane. Ha incorporato elementi della musica nigeriana nelle sue canzoni. Ha sfidato gli stereotipi. Ha mostrato al mondo che l'identità nera non era monolitica. Ha celebrato la bellezza della diversità culturale. È diventata un simbolo di speranza per gli immigrati. La storia di Ste ha ispirato le persone a conoscere meglio culture diverse. Ha favorito un senso di unità e comprensione. Ha dimostrato che la musica può essere un ponte che unisce persone di ogni provenienza. Sezione 9. Trovare amore e supporto. La famiglia scelta da Ste. Nel corso del suo viaggio Ste ha trovato amore e sostegno in luoghi inaspettati. Ha stretto profondi legami con persone di ogni ceto sociale. I suoi amici e la sua famiglia sono diventati i suoi pilastri di forza. Hanno celebrato i suoi successi. Le hanno offerto conforto nei momenti difficili. La storia di Ste ci ricorda che la famiglia non è sempre definita dal sangue. Si tratta delle persone che ci amano e ci sostengono incondizionatamente. Si tratta di trovare la nostra tribù, la nostra famiglia scelta, che ci accetta per quello che siamo veramente. Sezione 10. Un messaggio di speranza. Ispirare il cambiamento attraverso la musica. La storia di Ste è un faro di speranza in un mondo che spesso può sembrare diviso. La sua musica ci ricorda il potere dell'unità, dell'accettazione e dell'amore. Ci ispira ad abbracciare le nostre differenze e a celebrare la nostra comune umanità. La voce di Ste è diventata una colonna sonora per un cambiamento positivo. Le sue canzoni ci incoraggiano a sfidare l'ingiustizia e a lottare per un mondo più equo. Ci dimostra che anche di fronte alle avversità possiamo elevarci e creare un domani migliore. Sezione 11. L'eredità di Ste. Una cittadina del mondo, una pioniera musicale. Il viaggio di Ste è solo all'inizio. Continua ad abbattere le barriere e a ispirare le persone in tutto il mondo. È una vera cittadina del mondo che usa la sua musica per entrare in contatto con un pubblico di culture diverse. La sua eredità è fatta di coraggio, resilienza e incrollabile autenticità. Ste è una pioniera musicale che apre la strada a un'industria musicale più inclusiva e accogliente. Ci dimostra che la musica ha il potere di guarire, di ispirare e di unirci tutti.